buongiorno a tutti benvenuti su investire.biz buon inizio di settimana a tutti quanti un saluto come sempre da riccardo zago come ogni mattina andiamo a fare la panoramica generale sui mercati andando ad approfondire alcuni specifici argomenti oggi con ci concentreremo sul gold sul petrolio e anche sul cambio euro franco ricordo però tutti che come ogni lunedì c'è il webinar del lunedì alle ore 18 evento come sempre gratuito quindi vi aspettiamo numerosi oggi ci sarà un ospite speciale e proprio per questo andremo a parlare di che cosa andremo a parlare di azioni italiane un argomento molto molto richiesto che non abbiamo mai affrontato nel dettaglio quindi oggi insieme a uno dei più esperti nel mercato proprio italiano andiamo ad approfondire tutte le tematiche più interessanti andando anche poi a commentare quelle che sono state le trimestrali sulle più importanti aziende italiane ed è per questo quindi che andiamo subito sul sito per vedere come iscriversi all'appuntamento di quest'oggi come sempre sezione appuntamenti del sito eccoci qui webinar del lunedì delle ore 18 in mia compagnia ci sarà pietro origlia uno dei massimi esperti in italia del nostro mercato detto ciò andiamo subito sulla piattaforma del broker kimura trading per vedere quelli che sono gli aggiornamenti più interessanti per oggi non parlerò qui di azioni italiane perché come detto ne parleremo questa sera al webinar del lunedì delle ore 18 così presentiamo anche presentiamo anche pietro detto ciò iniziamo con il gold come detto la scorsa settimana abbiamo una view di medio lungo termine rialzista e di conseguenza possiamo andare a studiare quello che è il time frame settimanale per valutare delle posizioni rialziste una piccola posizione abbiamo ce l'abbiamo già in piattaforma però nel time frame giornaliero quindi se vogliamo concentrarci un po di più sul trading di breve termine come detto la tendenza e la pressione la tendenza è ribassista infatti notiamo come ogni rialzo che potete vedere viene ogni rialzo viene poi riassorbito e i venditori sembrano avere sempre la meglio soprattutto quando soprattutto dopo la rottura del livello chiave in area 1900 dollari per 11 un livello molto importante non solo non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto il profilo volumetrico gli obiettivi sono la trend line che possiamo notare ho tracciato una trend line che parte dalla chiusura ecco qui di settembre sui minimi di settembre 2021 e passiamo poi anche per la chiusura di fine gennaio 2022 insomma questo supporto dinamico a mio avviso potrebbe essere raggiunto e come abbiamo detto la settimana scorsa per i più aggressivi si poteva entrare anche subito dopo la chiusura di questa candela mentre per i più conservativi abbiamo visto come poter sfruttare questo eventuale ribasso andando a studiare quello che è il time frame orario che vediamo proprio in questo momento infatti attendiamo vedete come sta continuando a fungere da supporto questa zona bene dobbiamo attendere la rottura al ribasso come detto di 1862 per entrare in posizione ed è questo quello che andremo a fare dopo aver visto il gold come detto dovevamo parlare del petrolio ne abbiamo già discusso la settimana scorsa abbiamo visto come a mio avviso almeno può esserci un ulteriore rialzo fino in area 115 dollari al barile stavamo di conseguenza attendendo un ritracciamento per entrare in posizione ed è quindi questo il trade che andiamo a vedere quest'oggi o comunque l'analisi che può accompagnarci per l'intera settimana ed infatti andiamo a posizionare un avviso di prezzo in area 107 eccoci qui anzi scusate 106 e 50 perché è quello il primo livello dove valutare a mio avviso un long con obiettivo i 115 dollari al barile quindi attenderemo un primo segnale di debolezza per entrare poi in posizione al rialzo rimanendo sempre in tema ricordiamo che siamo long sul titolo any vista la chiusura della settimana scorsa una buona chiusura comunque al di sopra del massimo della candela precedente a livello tecnico il trend sembra essere rialzista abbiamo deciso di spostare lo stop loss al di sotto del minimo della settimana scorsa quindi il minimo della settimana scorsa come possiamo notare la zona dei 13.03 noi abbiamo impostato lo stop loss a 13 in sostanziale pareggio rimane attivo anche il target price in area 16 ed è chiaro che poi un ritorno anche sui massimi precedenti in area 14.25 e 14.50 potrebbe anche lì potremmo valutare di portare a casa a parte della posizione comunque concludiamo il tutto poi come detto con eurofranco lo stiamo tenendo d'occhio che avevamo preso un bel long da questi minimi poi siamo usciti dalla posizione la nostra view rimane rialzista ora ancora di più dopo la rottura del livello di 1.04 attenderemo quindi un ritorno su questa zona che ho evidenziato 1.0360 1.0380 per entrare nuovamente in posizione con un obiettivo di più ampio respiro qui in alto in area 1.06 bene ragazzi direi che per oggi abbiamo visto tutto come detto vi aspetto oggi alle ore 18 al webinar del lunedì con me anche pietro origlia per commentare il mercato italiano e di conseguenza anche le azioni quotate sul fuzzimibo buona serata e buon trading a tutti grazie a tutti